Cappuccetto rosso La tua cara nonna è malata. Le ho preparato della focaccia e del vino in un cestino. Puoi andare a portarglielo? Così la sua salute si rimetterà. Sì, certo, nonna mi manca tanto. Però, attenta, mi raccomando, la casa della nonna è in mezzo al bosco. Segui sempre la strada, non fermarti mai e non parlare con gli sconosciuti. Tranquilla mamma, sarò brava. Lei abita al centro del bosco. Intanto il lupo pensò tra stesse, mmm, chissà questa bambina quant'è buona, ma prima mangerò la nonnina. Uuu, guarda che bei fiori ci sono lì. È vero, li porterò alla nonna, così lei sicuramente sarà contenta. Cappuccetto rosso iniziò a raccogliere i fiori, ma quello successivo le sembrava sempre più bello dell'ultimo e così facendo distrattamente si addentrò nel bosco. Il lupo intanto, correndo correndo, arrivò a casa della nonna e bussò. Chi è? disse la nonna. Cappuccetto rosso, ho portato focaccia e vino, mi apri? Io non posso alzarmi, sono troppo debole. Alza il chiavistello ed entra. Il lupo allora aprì la porta e andò dritto in camera della nonna e la divorò in un sol boccone. Il lupo si mise i vestiti, gli occhiali e la cuffia della nonna. Si stese e si attormentò. Cappuccetto rosso arrivò finalmente a casa della nonna. Ma che strano! La porta è spalancata! Entrò in camera della nonna. Lei dormiva. E vedendola, il suo viso le sembrò diverso. Si sporse e le disse Nonna, che orecchie grandi che hai! È per sentirti meglio. Nonna, che occhi grandi che hai! È per vederti meglio. Nonna, che bocca grande che hai! È per mangiarti meglio, mia cara! Con la pancia piena, il lupo si rimise al letto, si addormentò e cominciò a russare sonoramente. Proprio allora, passò lì davanti la casa della nonna il cacciatore e pensò fra stesse Come russa la nonna! Meglio controllare che sia tutto a posto. Entrò nella stanza e, avvicinandosi al letto, vide il lupo. Gli venne in mente che forse il lupo aveva ingoiato la nonna. Così non sparò, ma prese un paio di forbici e aprì la pancia del lupo. Dopo quattro tagli, la bambina saltò fuori gridando Che paura ho avuto! Era così buio nella pancia del lupo! Poi venne fuori anche la nonna, fortunatamente ancora viva. Mentre il lupo continuava a dormire, Cappuccetto Rosso, furba, andò a prendere delle grandi pietre con cui riempirono il ventre del lupo. Quando egli si svegliò, voleva correre via, ma le pietre erano così pesanti che subito il lupo inciampò, rotolando, rotolando, cadde a terra e morì. Erano tutti contenti. La nonna mangiò la focaccia e beve il vino che aveva ricevuto e Cappuccetto Rosso pensò fra sé Mai più camminerò lontano dal sentiero e parlerò con gli sconosciuti. Grazie a tutti!